Ecco qua, andiamo qua, andiamo qua, andiamo qua, no, viene anche la mamma, ecco qua, andiamo 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 qua, Ecco, uno per volta, uno per volta, dai, uno, ci sono anch'io, ci sono anch'io. Grazie, soltanto. E' caduta. E' caduta. E' caduta. Andiamo. No. 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 Buongiorno a tutti. Il percorso è già fatto? OK. Allora... Ci restiamo ancora in un periodo di più in là. È ancora fatto. Questa è così? Sì. Come la primavera è arrivata con il periodo di più. Cosa? Cosa? Ci mettiamo superiore un po' Sì? Grazie a tutti.